Pollianna di Eleanor Porter Capitolo 6 Il dovere innanzitutto Erano quasi le sette quando Pollianna si svegliò, quel primo giorno dopo il suo arrivo. Le finestre del sottotetto davano a sud e a ovest, per cui non le arrivavano ancora i raggi del sole. Poteva però vedere il cielo azzurro limpidissimo e fu certa che sarebbe stata una bella giornata. La piccola stanza era più fresca adesso, invasa dall'aria dolce e pura dell'alba. Fuori si sentiva il gioioso cinguettio degli uccelli e Pollianna corse alla finestra per salutarli. Si accorse così che la zia era già in giardino vicino ai rosai e si preparò in fretta per raggiungerla. Scese a salti la prima rampa di scale lasciandosi dietro tutte le porte spalancate. Attraversò di corsa il grande corridoio, scese l'altra rampa di scale, lasciò sbattere la porta d'ingresso e si lanciò in giardino. Zia Polli era intenta a esaminare i rosai con il vecchio giardiniere quando la bambina, annunciandosi con tutta una serie di richiami, le si gettò letteralmente addosso. Oh, zia Polli, zia Polli, come sono felice di essere al mondo questa mattina! Pollianna! Protestò severamente la zia, provando a raddrizzarsi per quanto possibile col peso della bambina al collo. E questo è il modo di dare il buongiorno? La ragazzina, per tutta risposta, si mise a saltellare sulla punta dei piedi, leggera come una farfalla. Con le persone alle quali voglio bene, non riesco a trattenermi. Ti ho vista dalla finestra, zia Polli, e ho pensato che non sei una delle signore dell'assistenza, ma la mia vera zia. E hai un'aria così buona che non ho potuto fare a meno di scendere giù di corsa ad abbracciarti. L'anziano giardiniere si era raddrizzato intanto, e Miss Polli cercava di avere un'espressione severa, ma le riusciva meno bene del solito. Pollianna, tu, io, Thomas, per oggi basta così, per quei rosai siamo intesi, disse sostenuta. Poi si girò e si allontanò senza aggiungere altro. Lavori sempre qui in giardino, mister, come ti chiami? Chiese la bambina con vivo interesse. L'uomo si voltò, aveva le labbra contratte, ma gli occhi tradivano una profonda commozione. Sì, signorina, sono il vecchio Tom, il giardiniere, rispose. Poi, timidamente, allungata una mano callosa, la posò un momento sulla testa bionda della bambina. Ma somigli tanto alla tua mamma, signorina, sai? L'ho conosciuta quando era ancora più piccola di te. A quei tempi lavoravo già in questo giardino. Pollianna fece un profondo sospiro. Sul serio? Hai conosciuto davvero la mia mamma? Quando era ancora un piccolo angelo terrenuo e non del cielo? Oh, ti prego, parlami un po' di lei. Nel dire questo, Pollianna saltò in mezzo alla terra smossa dove si trovava il vecchio Tom. In quel momento, dalla casa, risuonò il gong e un attimo dopo si vide Nancy correre fuori dalla porta che dava sul giardino. Miss Polly, questo suono significa che ora di colazione. Anzi mo' prendendo la bambina per un braccio e trascinandola verso casa. Tutte le volte che senti questo suono, significa che è pronto in tavola. E quando lo senti devi correre come il vento, dovunque tu sia. Altrimenti... Beh, credo che ti sarebbe difficile trovare qualcosa di cui essere felice. Concluse spingendola verso casa come si fa con le galline ribelli per farle entrare nel pollaio. Durante i primi cinque minuti, la colazione fu silenziosa. Poi gli occhi di Miss Polly furono attratti da un paio di mosche che ronzavano sopra la tavola. Nancy, disse Severa, da dove vengono queste mosche? Io non lo so, signora. In cucina non ce n'erano, rispose Nancy. Nancy. Aveva avuto troppo da fare per notare che, fin dalla sera prima, le finestre nella stanza di Pollyanna erano rimaste aperte. Può darsi che siano le mie mosche, disse candidamente Pollyanna. Stamattina in cima alle scale ce n'erano in quantità, che volavano come fossero state a una festa. Nancy, a quel punto, lasciò la stanza a precipizio, portandosi via i panini caldi che stava mettendo in tavola. Le tue mosche? Esclamò Miss Polly. Che cos'è questa storia? Da dove sono entrate? Ma, zia Polly, saranno entrate da fuori, attraverso la finestra, è chiaro. Ne ho vista entrare qualcuna. Le hai viste? Vuoi dire che hai aperto le finestre senza che ci fosse la zanzariera? Beh, sì, non c'è la zanzariera, zia Polly. In quel momento, Nancy tornò con i panini. Aveva la faccia compunta e tutta rossa. Nancy, le disse la padrona con durezza, Posa quella roba e sali immediatamente in camera di Miss Polly Anna a chiudere porte e finestre. Più tardi, quando avrai terminato i tuoi lavori, passa ogni stanza con lo scacciamosche. Mi raccomando di fare un lavoro a tappeto. Quindi, rivolta alla nipote, disse Polly Anna, per quelle finestre ho già ordinato le zanzariere. Era mio dovere farlo. Mi sembra però che tu, invece, dimentichi completamente i tuoi doveri. I miei... Gli occhi di Polly Anna erano pieni di stupore. Certo, lo so che lassù fa molto caldo, ma ritengo che sia tuo dovere tenere le finestre chiuse finché non saranno arrivate le zanzariere. Le mosche, Polly Anna, non sono solo veicolo di sporcizia e assai fastidiose, ma anche pericolose per la salute. Dopo colazione ti darò qualcosa da leggere su questo argomento. Da leggere? Oh sì, zia Polly, mi piace moltissimo leggere. Miss Polly sospirò profondamente, quindi si fece scura in volto. Alla vista di quella sua faccia severa, Polly Anna divenne a sua volta pensierosa. Si capisce che mi dispiace di aver combinato un guaio con quelle finestre aperte, disse timidamente per scusarsi. Ti prometto che non le aprirò più. La zia non rispose e non disse più una parola fino alla fine del pasto. Poi si alzò e si diresse verso la libreria che si trovava in salotto. Prese da uno scaffale uno puscolo e tornò dalla nipote. Questo è il libro di cui ti ho parlato, Polly Anna. Desidero che tu salga immediatamente in camera tua e ti metta a leggere. Ti raggiungerò tra mezz'ora per dare un'occhiata ai tuoi vestiti. Polly Anna, con gli occhi fissi sul disegno di una mosca, fortemente ingrandita, disse tutta allegra. Oh, grazie zia Polly! E uscì allegramente dalla stanza, sbattendosi la porta alle spalle. Miss Polly ebbe un sussulto. Poi, dopo un attimo di esitazione, andò decisa verso la porta e la spalancò con impeto. Ma Polly Anna era già sparita su per le scale e la si sentiva salire di corsa. Quando, mezz'ora dopo, Miss Polly, con un'espressione che tradiva il suo malumore in ogni piega del volto, salì le scale ed entrò in camera di Polly Anna, fu accolta con il massimo entusiasmo. Oh, zia Polly, non ho mai visto niente di più interessante e divertente in vita mia. Sono così contenta che tu mi abbia dato da leggere questo libro. Santo cielo, non avrei mai e poi mai immaginato che le mosche potessero portare in giro tanta roba in quelle zampette e... Basta così, Polly Anna, disse dura Miss Polly. Fammi vedere i tuoi vestiti ora. Voglio verificare in che condizioni sono. Quello che a te non va più bene lo darò ai Sullivan, naturalmente. Con evidente riluttanza, Polly Anna posò l'opuscolo e si diresse verso l'armadio. A te sembreranno anche più brutti che alle signore dell'assistenza e loro li trovavano già abbastanza pietosi, sospirò. Ma negli ultimi due o tre pacchi mandati alla missione c'erano soprattutto cose per maschi e per persone anziane e... Hai mai ricevuto un pacco per le missioni, zia Polly? Vista l'espressione scioccata della zia, Polly Anna si corresse all'istante. Che stupida, certo che non ne hai mai ricevuto uno, zia Polly, disse arrossendo. Dimenticavo che i ricchi non ne hanno bisogno, ma devi capire che non mi ricordo più che sei ricca quando sono in questa stanza. Miss Polly spalancò la bocca indignata, ma non riuscì a dire una sola parola. E Polly Anna, del tutto ignara di aver detto alcunché dispiacevole, continuò. Quello che volevo spiegarti è che non si può mai sapere cosa puoi trovare in un pacco, tranne che non ci sarà mai quello che desideri, anche quando ti sforzi di non desiderare nulla. Erano proprio i pacchi che rendevano sempre difficile il gioco a me e a papà. Polly Anna si ricordò improvvisamente che non doveva nominare suo padre in presenza della zia. Cacciò allora la testa dentro l'armadio e incominciò a tirare fuori i suoi miseri abiti. Non sono proprio belli, disse imbarazzata, e avrebbero dovuto anche essere neri, se non fosse stato che c'era da comperare il tappeto rosso per la chiesa, ma è tutto quello che mi hanno dato. Miss Polly intanto prendeva con la punta delle dita qualche capo, così chiaramente confezionato per chiunque, tranne che per la bambina. Concentrò quindi la sua attenzione sulla biancheria rammendata, che era stata sistemata nel cassetto del comò. Quella migliore ce l'ho addosso, confessò Polly Anna. Le signore dell'assistenza mi hanno comprato tutto un completo nuovo. La signora Jones, che è la presidente, aveva detto che ne avevo assolutamente bisogno, che la navata centrale della chiesa senza tappeto avrebbe potuto rimbombare sotto i loro passi anche per il resto dei loro giorni. Ma comunque non credo che accadrà, perché Mr. White non sopporta i rumori. Sua moglie dice che è debole di nervi, ma ha anche molti soldi, e infatti si aspettano che faccia una bella offerta per comprare il tappeto, e così i suoi nervi non saranno più scossi. Penso che, visti i suoi nervi deboli, dovrebbe essere contento di avere tanto denaro. Miss Polly non sembrava nemmeno ascoltarla e, conclusa l'ispezione della biancheria, si voltò di scatto verso la bambina. Ti hanno mandato a scuola, voglio sperare, disse. Oh, certo, zia Polly. Inoltre, pa... voglio dire, ho anche avuto lezioni in casa. Molto bene, disse Miss Polly severa. In autunno frequenterai la scuola locale. Mr. Hall, il direttore, stabilirà in quale classe dovrai andare. Intanto desidero che tu legga a voce alta per un'ora al giorno. Mi piace molto leggere. Ma se ti dà fastidio sentirmi, posso leggere per conto mio, zia Polly, davvero. Anche perché preferisco leggere senza farmi sentire per via delle parole difficili, capisci? Non lo metto in dubbio, replicò la zia asciutta e soggiunse. Hai studiato musica? Non molto. Vedi, mi piace molto la musica che fanno gli altri, non quella che faccio io. Ho studiato un po' il piano. Miss Gray, che suona in chiesa, mi ha dato lezioni. Però, se posso, preferirei non continuare, zia Polly, davvero. Lo immaginavo, disse la zia, sollevando leggermente un sopracciglio. Ciò nonostante, ritengo che sia mio dovere farti apprendere almeno i rudimenti della musica. Sai cucire, naturalmente. Un po', sospirò Pollyanna. Le signore dell'assistenza mi hanno insegnato, ma io ho fatto una fatica tremenda. La signora Jones, per fare le asole, voleva che tenessi l'ago in modo diverso da come lo tenevano le altre signore. E la signora White pensava che si dovesse imparare a imbastire prima di fare un orlo. O il contrario, forse. E la signora Harriman diceva che non era assolutamente il caso che iniziassi a fare i rattoppi. Non ci saranno più difficoltà a questo riguardo, Pollyanna. Ti insegnerò io stessa a cucire. Quanto a cucinare, penso che non sarai capace di fare nulla. Pollyanna scoppiò in una risata. L'estate scorsa avevano cominciato a insegnarmi qualcosa, ma non sono andata molto avanti. Le signore erano ancora più divise sul metodo da usare di quanto non lo fossero per il cucito. Volevano iniziare dal pane, ma ognuna aveva un sistema tutto suo. E così, dopo molte discussioni, decisero che sarei andata a casa di una di loro a turno una volta a settimana. Avevo imparato a fare il budino di cioccolato e la torta di fichi quando... Quando... Dovetti interrompere le lezioni. A quel punto, la voce di Pollyanna ebbe un cedimento e si interruppe. Budino di cioccolato, torta di fichi, questa poi, commentò Miss Polly. Penso che dovremo rimediare subito. Restò qualche minuto pensierosa, poi proseguì. Ogni mattina alle 9 leggerai ad alta voce, me presente, per mezz'ora. Prima però dovrai riordinare la tua stanza. Il mercoledì e il sabato mattina, dopo le 9.30, andrai in cucina a fare pratica con Nancy. Le altre mattine le passerai con me a cucire e durante il pomeriggio studierai musica. A questo scopo farò venire immediatamente un insegnante. Concluse alzandosi dalla sedia. Pollyanna la guardò smarrita. Ma zia Polly, non mi hai lasciato neanche un minuto per... per vivere! Esclamò. Vivere? Che cosa vuoi dire? Come se tu non continuassi a vivere in ogni caso. Oh, ma è chiaro che continuerei a respirare mentre faccio tutte quelle cose, zia Polly. Ma non sarebbe un vero vivere per me. Uno respira mentre dorme, ma non vuol dire che sia vivo. Per vivere io intendo fare le cose che uno desidera. Giocare all'aria aperta, leggere da sola naturalmente, salire in cima alla collina, parlare con il vecchio Tom e Nancy in giardino, e poi imparare a conoscere le case e le persone e tutto ciò che ho potuto scorgere ieri arrivando qua per le bellissime strade. Ecco quello che secondo me vuol dire vivere, zia Polly. Polly Anna, sei la bambina più stravagante che io abbia mai incontrato. Ti sarà concesso, naturalmente, anche un tempo ragionevole della giornata per svagarti. Mi sembra però che se io mi sforzo di fare il mio dovere nell'offrirti cure adeguate e una corretta istruzione, tu a tua volta dovresti fare altrettanto, evitando di vanificare i miei sforzi in maniera così ingrata. Polly Anna apparve molto scossa dalle parole della zia. Oh, zia Polly, ci sembra possibile che io possa essere un'ingrata con te? Lo sai che ti voglio bene. Tu non sei una signora dell'assistenza, ma sei la sorella di mia madre, una vera zia. Benissimo, allora cerca di non comportarti come un'ingrata, concluse la zia dirigendosi verso la porta. Si trovava a metà della rampa delle scale, quando una voce un po' insicura la chiamò. Scusa, zia Polly, non mi hai detto quale dei miei vestiti ha intenzione di... regalare. La zia si lasciò sfuggire un lungo sospiro che non mancò di raggiungere l'orecchio di Polly Anna. Ho dimenticato di dirti, Polly Anna, che nel pomeriggio Timothy ci condurrà in centro. Nessuno di quegli abiti è adatto a una mia nipote, e non farei certamente il mio dovere nei tuoi riguardi se ti permettessi di mostrarti con quella roba addosso. Adesso era Polly Anna a sospirare, e sentì che d'ora in avanti avrebbe odiato la parola dovere. Zia Polly, scusa, disse con voce forte e decisa. Non sai se c'è un modo in cui tu riesca a essere contenta in tutta questa faccenda dei doveri? Come? Miss Polly alzò lo sguardo sorpresa, poi, all'improvviso, con il volto rosso di collera, corse giù per le scale, esclamando... Non essere impertinente, Polly Anna! Nella piccola stanza soffocante del sottotetto, Polly Anna si lasciò cadere su una sedia. La sua esistenza le si presentava come un'infinita serie di doveri. Non capisco proprio che cosa ho detto di tanto impertinente, disse con un sospiro. Volevo solo che mi spiegasse un modo per essere contenta di tutta questa faccenda dei doveri. Per un bel po' Polly Anna sedette in silenzio a fissare con occhi tristi il mucchietto di abiti abbandonati sul letto. Poi si alzò lentamente e cominciò a riordinare le sue cose. Non c'è proprio niente di cui essere allegra, mi pare, disse a voce alta. A meno che il trucco non sia essere felici quando il dovere è fatto e finito. E scoppiò a ridere. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie.